Buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento di Science Show Racconti di Scienza, cura di formal scienza qui alla libreria Saggi. Il microfono... no, perché forse... ecco qui... questo incontro, l'enigma delle cellule immortali con Flavia Zucco, biologa. Allora, conosciamo un po' Flavia Zucco e iniziamo col chiederle chi è Flavia Zucco in 30 secondi. Sono una biologa, ho lavorato al CNR tutta la mia vita, ho iniziato a lavorare con le culture cellulari per studiare lo sviluppo del sistema nervoso e poi sono passata a studiare la tossicologia in vitro, cioè sempre con le culture cellulari, perché mi interessava migrare in un settore che fosse un po' più applicativo. Quando e perché ti sei posto come obiettivo da grande voglio fare la ricercatrice? Allora, io non mi ero posta come obiettivo di fare la ricercatrice. È maturato piano, specialmente nel momento in cui ho deciso di fare la tesi. Sono entrata in un laboratorio di ricerca e mi è sembrato questo clima estremamente stimolante. Ero nel laboratorio di Buzzati Traverso a Napoli per fare la tesi, lui era appena rientrato dagli Stati Uniti, era una personalità assolutamente carismatica, c'erano scienziati che venivano da tutto il mondo per lavorare lì e poi le tematiche erano quelle di avanguardia della biologia molecolare. Quindi a questo punto la ricerca mi ha veramente conquistato e ho deciso di, se potevo, di fare, di continuare in quel settore. La mia tesi è stata in realtà in genetica dei microrganismi, quindi ho cominciato a lavorare con i batteri e poi solo successivamente quando sono stata assunta al CNR ho cominciato a lavorare con le culture cellulari. Colliamo un momento di questa esperienza. Qui ci troviamo nella biblioteca di Arco Felice, del laboratorio di Arco Felice, una giornata particolare. Io sono stata assunta in questo laboratorio di embriologia molecolare, ho avuto come direttore il professore Alberto Morroi che era un embriologo di fama internazionale e sono stati degli anni di formazione molto, molto importanti. Dopo questa esperienza sono passata a Roma, in realtà per motivi personali, non per una scelta diciamo di carattere scientifico e però nel contempo ho deciso anche appunto di spostarmi in un altro settore che era quello appunto della tossicologia. Questa è Flavia e qui ci sono delle birre, cosa stavate festeggiando? La mia partenza in realtà, la mia partenza, era una festa d'addio. Qui raccontiamo. Ecco, allora la mia vita lavorativa è stata molto stimolante, devo dire ho avuto parecchie fortune. Qui io sono a Ispra, al centro di ricerca europeo di Ispra, dove era stato costituito il centro per i metodi alternativi alla sperimentazione animale. Qui sto parlando con il primo direttore di questo centro in una pausa dei lavori come potete immaginare perché siamo seduti sulle scale e questa è stata una conquista dei verdi al Parlamento di ottenere che venisse istituito questo centro. Io ho fatto parte proprio di quel gruppo di ricercatori a livello europeo che a un certo punto hanno cominciato ad avviare una serie di iniziative perché le culture cellulari venissero usate invece che gli animali, ma non solo per motivi etici ma anche per motivi scientifici, nel senso che poi vi spiegherò tutti i vantaggi che offrono questi modelli, pur essendo un modello riduzionista. E quindi mi sono trovata a vivere le origini di una nuova disciplina, tra l'altro abbiamo fondato anche una società che è la Società Europea di Tossicologia In Vitro, appunto questa nuova disciplina, cioè la tossicologia veniva praticamente fatta solo sugli animali e noi invece abbiamo avviato la svolta. Quindi ho fatto parte del consiglio scientifico di questo istituto per dieci anni. in mezzo a molte donne. Ecco, questo è l'altro pezzo della mia vita, anche molto interessante. Questa è la cena finale della settima università del Mediterraneo a Barcellona. C'erano donne di tutta l'area del Mediterraneo, quindi anche del Nord Africa, egiziane, marocchine, dall'Argeria, dalla Tunisia, spagnole, francesi e appunto io come italiana. È stata un'esperienza molto bella e interessante perché non solo eravamo scienziate in questo consenso, ma c'erano anche scrittrici, autrici, tuttrici e è stato, come dire, delle giornate di lavoro intenso in cui abbiamo dovuto misurarci con linguaggi diversi, che però, linguaggi diversi e culture diverse che derivavano sia dalle discipline che dall'origine delle partecipanti, dai paesi d'origine delle partecipanti, che però è stato di una ricchezza assolutamente incredibile. Questo è l'altro pezzo della mia vita, nel senso che nell'88 noi abbiamo cominciato a interrogarci sul senso qui in Italia, alla casa, alla libreria delle donne di Bologna, sul senso e il significato della scienza. Era appena successo Cernobil, Seveso, tutte queste cose qua e quindi eravamo tutti molto impegnate nel discorso della non neutralità della scienza. Però poi quando abbiamo invocato questa strada abbiamo scoperto che la scienza non solo non era neutra rispetto a tutta una serie di scelte, di progetti, di attività che svolgeva, ma non era neutra neanche nelle questioni di genere. Cioè le donne, pur essendo questo un ambiente estremamente aperto, dove si ha la libera circolazione delle idee, dove si hanno scambi a livello internazionale, dove l'educazione media delle persone è piuttosto elevata, abbiamo dovuto prendere atto che le donne non stavano ai margini dell'impresa scientifica e spesso erano assolutamente assenti dai livelli decisionali. Ci è venuta in aiuto la Commissione Europea che a partire dagli anni, metà degli anni 90, ha cominciato a fare una serie di attività e di politiche per la promozione delle donne nelle carriere scientifiche. E la Commissione l'ha detto molto chiaramente in una sua comunicazione che le donne devono essere valorizzate non solo per questioni di democrazia e di giustizia, ma anche perché sarebbero sprechi enormi di risorse dal momento che noi le stiamo ormai educando, le portiamo fino ai livelli più alti della formazione e poi quando entrano nell'impresa scientifica scompaiono. A questo proposito vi do solo un messaggio, potete consultare il sito della Commissione che si chiama She Figures dove vengono riportate le statistiche. Da queste statistiche voi vedete esattamente come pur essendoci una massa di partenza, adesso anche nelle discipline cosiddette tecnologiche piuttosto solide e consistente, a mano a mano che ci sono gli avanzamenti di carriera, le donne scompaiono. Questo indica che c'è una discriminazione specifica all'interno dell'Accademia, delle attività di discriminazione specifica all'interno dell'Accademia che agiscono in maniera anche piuttosto occulta nel discriminare le donne. Questo è molto interessante il fatto che per esempio persino in Finlandia dove noi abbiamo 34% di deputate donne, abbiamo la Presidente della banca finlandese donne, abbiamo da anni ormai, però le statistiche delle carriere universitarie sono praticamente nella media europea, il che vuol dire che l'Accademia ha delle sue politiche precise, l'Accademia diciamo tra virgolette, delle politiche precise. Il cercare è una cosa che accompagna nella vita di tutti i giorni? Beh, prima sì, era una grande curiosità. Adesso mi rendo conto che io ho sviluppato proprio forse per il lavoro che ho fatto un'attenzione particolare ai dettagli che per esempio anche in casa gli altri non hanno. Io noto delle piccole cose, registro e fisso nella mente delle piccole cose che altri non hanno. Questo probabilmente è dovuto al fatto di un'abitudine acquisita. L'oggetto simbolo che ti rappresenta? Non è un oggetto, io penso l'acqua. Un elemento. Un elemento. Bene, ti lascio, lascio la parola a Flavia. Allora, io ho voluto raccontarvi questa storia perché è una storia che ha fatto parte della mia vita, che mi ha appassionato, mi ha anche... consente anche a voi, consente anche a voi di capire come avvengono le cose nella scienza. Io poi avrei potuto intitolare questa lezione anche una scoperta che è durata 50 anni, oppure gli scienziati sono geniali ma questo non vuol dire che siano eccellenti in tutte le loro cose. Insomma, tante piccole messaggi che vi arriveranno. Allora, la storia delle culture cellulari inizia nel 1885 con Roo, che ottiene la sopravvivenza di embrioni di pollo in soluzione salina. Questa, diciamo, è un passaggio, come dire, abbastanza elementare, però non così scontato perché un embrione fuori dall'uovo, l'embrione di pollo, uno pensava non potesse maturare. Invece lui ha pensato, e qui comincia la rivoluzione, che alcune cellule estratte dal loro contesto ambientale possano avere una vita assolutamente autonoma. Nel 1887 Arnold ottiene la sopravvivenza di linfociti di anfibio in una goccia di plasma. Anche lui usa un modello, come dire, tra virgolette facile, perché i linfociti sono delle cellule non fisse, come sapete, che sono in circolo nell'organismo, quindi facili da isolare, e lui ha estratto questa goccia di plasma con i linfociti, ha visto che questi, indipendentemente dall'anfibio, continuavano ad andare avanti e a vivere praticamente. Ma il vero scopritore è colui che ha dato vita a questa storia delle culture cellulari, è stato Harrison. Lui era professore associato di anatomia alla John Hopkins University di Baltimore e insegnava istologia ed embriologia. Lui ha usato questa idea che le cellule potessero vivere a bulse dal loro contesto e fare il loro mestiere fuori dal loro contesto per dimostrare una teoria di cui vi parlerò dopo e per cui lui ha incominciato a coltivare questi neuroblasti in una goccia di linfa, sono neuroni immaturi praticamente, e ha visto che questi neuroblasti, pur messi isolati in una goccia di linfa, tiravano fuori i neuriti e i prolungamenti. La cosa interessante di questo signore è che lui, dopo aver risolto il problema di cui vi parlerò, ha abbandonato la carriera scientifica. Non si è capito bene perché, era il 1914, stava scoppiando la guerra mondiale, sua moglie era una tedesca, probabilmente ci sono stati dei problemi, cioè una forma di ritirarsi in una parte, diciamo, meno visibile dell'università e ha deciso di occuparsi del personale. Quindi lui è stato dal 1914 fino al 1938, si è occupato del reclutamento del personale della Medical School della Yale University. Quindi vedete i destini come sono complessi. E lui, che adesso viene riconosciuto come il padre delle culture cellulari, tuttavia non ha avuto mai nessun riconoscimento per questa cosa. Ecco che cosa aveva fatto lui. Lui aveva, per poter osservare queste cellule al microscopio, lui ha dovuto coltivarle su un vetrino da microscopio. Quindi immaginatevi, siamo agli inizi del Novecento, quindi tutta una cosa molto delicata e artigianale. Qui c'è una goccia di linfa che chiaramente deve essere messa invertita, perché se no la linfa si spanderebbe, schiaccerebbe le cellule, si seccherebbe. Quindi invece viene messa in questo vetrino un po' cavo, sospesa al coprioggetto e in questa maniera lui ha coltivato queste cellule. Che cosa voleva dimostrare? Lui c'erano al suo tempo, vedete questa pubblicazione del 1910, che parla appunto della crescita di fibre nervose al di fuori delle cellule, c'era un dibattito in corso tra due teorie. Una era la teoria reticolare, che sosteneva che il sistema nervoso era costituito da una continuità di fibre che si intrecciano tra di loro e che come tale si sviluppava, cioè le fibre e le cellule si sviluppavano contemporaneamente e formavano il reticolo, e invece c'era la teoria neuronale di cui alcuni sostenevano la maggiore plausibilità. Le cellule nervose mettono dei prolungamenti che stabiliscono contatti contigui, cioè le sinapsi, con le altre cellule. Questo sarebbe un reticolo, il lavoro fondamentale era stato firmato appunto da Ramoni Hall, che era un famosissimo neurologo spagnolo, e da Harrison. E lui ha dimostrato che appunto il reticolo non nasceva come tale, ma erano le cellule che emettevano i prolungamenti e poi i prolungamenti facevano il reticolo. E guardate che cosa ha fatto lui come osservazioni. Lui ha fatto, questi sono i suoi disegni, a quell'epoca non c'erano i microscopi con la macchina fotografica, il computer che misurava il tempo, la lunghezza, eccetera. Quindi lui a mano ha disegnato questi prolungamenti, vedete che uscivano, e se voi qui purtroppo non vedete le ore, ma lui ha segnato 10.50, 11.04, 11.19, cioè lui stava con l'orologio, guardava quel vetrino, vedeva la fibrina che usciva e segnava e la disegnava. E disegnava questo. Quindi immaginate il lavoro che ha fatto, però come un esperimento, per quei tempi complicato, ma decisamente piuttosto semplice, lui ha risolto una controversia fondamentale dello sviluppo del sistema nervoso. Nonostante questo, il premio Nobel andrà a questo signore che si chiama Carrell. Questo è un chirurgo che aveva studiato chirurgia a Lione e nel 1904 ha deciso di trasferirsi in America perché gli era stato offerto un posto alla Raffaello University. Dopo sei anni che era lì, Carle ha avuto il premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1912 per i lavori sulle suture vascolari, sul trapianto degli organi, sulla coltivazione a lunga scadenza di tessuti in vitro. Cosa aveva fatto lui? Lui, essendo un chirurgo, era stato interessato da questo modello delle culture cellulari per capire come si chiudevano le ferite. Cioè lui voleva capire se la chiusura delle ferite avveniva perché c'era una proliferazione del tessuto oppure perché migravano delle cellule e andavano a incontrare le altre. Quindi lui ha fatto questo studio, però la tecnica l'ha presa da Harrison, non è che l'ha inventata lui, l'ha presa da Harrison, però lui ha ricevuto il premio Nobel. Lui, questa fiasca che voi vedete, si chiama proprio fiasca di Carrel, che è una fiasca che consente di coltivare le cellule ed ha questo strano becchetto laterale perché uno dei rischi maggiori è quella della contaminazione da batteri, muffi, microbi e robe varie, quindi in questa maniera si consente di lavorare senza che il fiato possa andare direttamente. E lui ha ottenuto nel 1910 una cultura di cellule, di cuore, di pollo, quindi isolate in cultura dentro una piastra come questa che batteva aritmeticamente. E adesso ve la faccio vedere. Dov'è? Aiuto. No. Devo trovare di nuovo il mio folder. Eccolo qua. Ecco qua. Ops. Ecco. Ecco. Queste sono cellule in cultura, isolate quindi dal cuore, che come vedete battono quando hanno raggiunto una certa densità stabilito i necessari contatti vedete che battono ritmicamente. Fa anche un certo effetto vedere queste cellule in una bottiglia che si contraggono come fosse un cuore. No, che hanno delle fibre, dei segnali elettrici che consentono di... Eh, che consentono di... È chiaro che dopo un po' che sono in cultura se uno non gli dà i nutrimenti, i sali, le cose necessarie, smettono di battere. Però riescono a fare, come dire, il loro mestiere fuori dal tessuto d'origine. E questa è una cosa assolutamente affascinante. Ed è questo che aveva fatto appunto Carrell. Dunque, eravamo qua. E allora, come vi ho detto, Carrell ha avuto... ha avuto questa... questa idea. Di Carrell, vi devo dire, invece la sua fine, che anche questa è una storia molto particolare. Lui a un certo punto, quando è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, ha deciso che doveva tornare in Francia e combattere con Petain. E quindi è morto poi in Francia pochi mesi prima di essere condannato per collaborazionismo. Quindi vedete i destini di queste persone. Cioè, lui era un grande scienziato, un premio Nobel, e poi però la cosa del suo paese, le sue idee, eccetera, l'hanno portato altrove. Comunque adesso andiamo avanti con la storia delle culture. Ai primi del 910, questo assistente di Carrell è stato appunto mandato alla Rockefeller ad imparare da Ross Harrison. Quindi lui, il modello, l'ha preso da lui. E nel laboratorio di Carrell, la vera novità si è avuta sul fatto che lui ha incominciato a provare dei mezzi di cultura. Cioè, lui ha detto, non si può continuare col plasma, il plasma poi si coagula, si secca, dobbiamo preparare dei mezzi di cultura, che quindi ha cominciato a preparare delle soluzioni saline, che oltretutto erano anche un po' più fluide, quindi creavano un ambiente un po' più, come dire, meno vincolante, e con l'aggiunta di un po' di siero. Il lavoro è progredito rapidamente, rapidamente i ricercatori sono stati in grado di, non solo di far sopravvivere, qui vedete tutte le tappe, non solo di far sopravvivere le cellule, ma di farle riprodurre. Cioè, le cellule si replicavano, si dividevano e continuavano a proliferare. In questa maniera hanno ottenuto una serie di linee cellulari in grado di sopravvivere e di crescere in cultura. E queste sono le rivoluzioni concettuali che sono avvenute in questa fase, cioè il fatto che le cellule possano vivere fuori dal corpo e continuare a fare il loro compito, pur essendo portate in un contesto diverso. Il concetto di immortalità non è più un concetto né metafisico, né filosofico, né religioso, ma è un concetto scientifico, diventa un concetto scientifico e la biologia, che era per eccellenza una disciplina, come dire, descrittiva del mondo vivente, acquista questo suo versante tecnologico, che è quello che noi oggi vediamo di più, cioè tutta l'ingegneria genetica, tutto quello che sta succedendo è praticamente figlia di questa rivoluzione, figlia di questa rivoluzione, in cui la biologia ha smesso di essere appunto una descrizione del mondo vivente, ma è diventata una tecnologia. E poi si è apprezzato in pieno questa questione del tempo come quarta dimensione del vivente, cioè il fatto che quello che è molto significativo è le trasformazioni che uno vede e la correlazione, quello che aveva fatto Harrison appunto, di mettere in correlazione lo sviluppo del reticolo con le cellule, come fatti non contemporanei, ma successivo uno all'altro. Quindi la importanza anche della collocazione nel tempo dei fenomeni biologici. Quali sono le fasi attraverso cui si è evoluta e perché vi ho detto che ha preso 50 anni? Quindi nessuno pensa alla scoperta delle culture cellulari come a quella del DNA, che è venuta così, no? Da un giorno all'altro si è detto ecco si è risolto il codice genetico, perché ha preso 50 anni questa storia? Cioè prima si è dovuto trovare, si sono dovute affrontare tutta una serie di problemi, cioè una volta dimostrato il principio, però bisognava trovare le condizioni ottimali sia per ottenerle, cioè come si isolano dal tessuto, perché isolarle dal tessuto significa anche danneggiarle, quindi ci sono tecniche meccaniche, tecniche usando enzimatiche che digeriscono il tessuto intorno, ci sono un'infinità di modi. Poi i supporti appunto, come coltivarle, su che supporti? Nei primi tempi si usavano il vetro coperto di collagene, perché il collagene favoriva l'adesione delle cellule, specialmente le cellule che fanno parte di un tessuto solido, non come le cellule del sangue, eccetera. E quindi loro avevano bisogno di fissarsi, quindi si trattava con collagene le piastre. Poi adesso si usano delle piastre di plastica che hanno dei trattamenti particolari per cui le cellule aderiscono spontaneamente. I mezzi di cultura, cioè ogni cellula ha bisogno del suo nutrimento, le cellule del sistema nervoso hanno bisogno di un nutrimento diverso dalle cellule del fegato o via di seguito, proprio per poter sopravvivere, non solo come nutrimento, ma anche come ambiente e circostanze che le protegga dovutamente. Quindi questa è una fase abbastanza lunga. Se voi pensate che si arriva fino al 55, in cui Eagle pensa addirittura che forse la cosa migliore è quella di ripartire dai singoli componenti del siero e costruire il mezzo di cultura artificialmente, partendo dalle vitamine, gli zuccheri, i sali minerali, tutte queste cose qui. Io l'ho fatta all'inizio del mio lavoro, di pesare delle quantità minime di varie sostanze, mescolarle in un'acqua distillata, sterilizzata, erano circa una cinquantina queste sostanze, che vanno appunto dai sali alle vitamine, eccetera, e così si faceva il mezzo cosiddetto ricostituito. La seconda fase, che è dell'evoluzione delle culture cellulari, che va dalla metà degli anni 50 del secolo scorso, si caratterizza per il fatto che finalmente le culture di cellule incominciano a essere usate come routine in alcuni campi scientifici, specialmente nel campo della virologia e nel campo della biologia cellulare e molecolare. Questo, perché è avvenuto questo passaggio? Perché nel frattempo maturavano tante altre cose, cioè si accumulava un sacco di conoscenze nel campo biochimico, a partire dagli anni 30 la biochimica ha avuto uno sviluppo enorme, quindi si conoscevano quali erano come dire, il ciclo di Krebs, cioè tutti quei pathway che portavano alla produzione di energia all'interno delle cellule, la sintesi delle proteine, tutte queste cose qua, per cui uno riusciva a sapere le fonti di energia per le cellule e via di seguito. Poi, il contributo dei virologi al miglioramento di queste tecniche è stato fondamentale, perché i virologi si sono tanto interessati alle cellule in cultura? Perché i virus, come sapete, da soli non fanno granché, hanno bisogno di sfruttare la macchina della cellula per potersi riprodurre. Addirittura, quando si riproducono all'interno di alcune cellule, le uccidono anche, sia batteriche che cellule di mammiferi superiori, perché si riproducono in così grande numero che la cellula esplode. Quindi sono come dei parassiti. Allora, per poter studiare i virus, quando hanno visto che c'era questo modello sperimentale a disposizione, i virologi non gli pareva vero e quindi hanno usato questo modello. Ed è chiaro che quando si usa un modello, questo modello, mano a mano, si perfeziona, si evolve ulteriormente a secondo delle bisogni. E qui vi racconto appunto una cosa, il contributo dei virologi, noi abbiamo questi signori che nel 54 hanno vinto il premio Nobel per la medicina per la scoperta della capacità dei virus della poliaminite di crescere in culture di vari tipi di tessuti. E questo è un fatto tipico, per questo che io ho detto che avrei gettato luce su varie facce della scienza. è un caso tipico di serendipità, cioè loro, cioè di fortuna, diciamo, di fortuna legata al caso, ma legata anche alle loro capacità, eccetera. Allora, loro cercavano di produrre, stavano producendo il virus della varicella da parte di cellule di pelle e di muscolo, perché la varicella attacca la pelle, i muscoli, eccetera, di embrione umano. E avevano alcune culture in eccedenza. Allora, siccome era un lavoro faticosissimo a quei tempi fare queste culture cellulari, avevano un po' di virus della polio nel freezer e hanno deciso di provarlo su queste culture in eccedenza. E hanno visto che queste culture erano in grado di produrre, cioè il virus della polio riusciva a riprodursi all'interno di queste culture. fino a quel momento lì nessuno c'era riuscito perché tutti pensavano che la poliomelite è una malattia neurotropica e che quindi avevano provato a fare produrre il virus della polio da cellule neuronali. Loro invece hanno detto abbiamo queste culture in più, abbiamo un po' di virus, buttiamolo sopra e vediamo che cosa succede. E così hanno scoperto che il virus della polio si riproduceva benissimo nelle culture di pelle e di muscolo di embrione umano. Quindi vedete anche la scienza come avanza. Lui hanno preso il premio Nobel per questa cosa. E adesso arriviamo a questa storia della immortalità. Questa storia dell'immortalità è stata la vita è stata celebrata in un libro che è uscito un paio di anni fa proprio in occasione della dei 60 anni dalla morte di Arietta e infatti si chiamava la vita immortale di Arietta alle X. Succede che nel gennaio del 51 presso appunto il John Hopkins Hospital di Bertimura viene diagnosticato a Arietta un tunore all'ultero. Si tratta di un adenocarcinoma molto raro e particolarmente aggressivo. La biopsia viene inviata a George Gay che è direttore del tissue culture research laboratory quindi vedete che finalmente nei 50 c'è proprio un laboratorio destinato alle culture di tessute e la sua tecnica nota la particolare capacità proliferativa di queste cellule e lei ne produce diversi campioni cioè come si fa? Si fanno crescere quando raggiungono una grande densità si diluiscono in altre culture poi queste culture possono essere staccate congelate a meno 180 e poi scongelate e rimesse in cultura Arietta muore il 4 ottobre del 1951 a 31 anni lascia 5 figli e 239 giorni dopo che le sue cellule hanno cominciato a crescere indefinitamente allora le cellule di Arietta sono ancora qui nei nostri laboratori in tutti i laboratori del mondo si chiamano ILA dalle sue iniziali si riproducono in bottiglie di plastica in presenza di un brodo nutritivo in incubatori a 37 gradi centrigali o sono congelate in fialette poste in contenitori di azoto liquido a 190 gradi a meno 190 gradi hanno un corredo cromosomico poliploide cioè vuol dire che il numero di cromosomi non è normale e questo è caratteristico delle cellule tumorali e ora si capisce qual è il gene che era alterato ora si è saputo con la genomica qual era il gene che si era alterato che aveva prodotto questo tumore particolarmente virulento questa è Arietta e questi sono delle cellule ILA in cultura questi sono i nuclei qui voi vedete un nucleo in divisione dove i cromosomi si stanno separando per dare origine poi a due nuclei quindi a due cellule figlie sono state proprio le caratteristiche di queste cellule a consentire a questo dottor Gay di riuscire finalmente nel suo intento quello di tenere in cultura delle cellule umane a vita indefinita cioè per per tempo indeterminato perché questo riesce con le cellule tumorali adesso si riesce anche con altri tipi di cellule ma a quegli epoca era perché le cellule tumorali sono come delle cellule voi lo immaginate bene impazzite hanno perso una serie di segnali che gli dicono cosa devono fare e cosa non devono fare quindi quando sono in cultura si adattano molto meglio che delle cellule normali perché le cellule normali hanno bisogno tutto di una serie di equilibri molto delicati queste invece proprio perché sono tumorali non non scavalcano certe barriere non e lo sapete perché il comportamento poi dei tumori possiedono la capacità di dividersi continuamente e quindi hanno perso il blocco della proliferazione cellulare perché quello che succede è che quando tu hai delle cellule normali in cultura quando la piastra è piena cioè le cellule si entrano in contatto partono dei segnali che gli dicono che non si devono più dividere devono fermarsi lì perché se no la struttura del tessuto dell'epitelio cioè non viene più rispettata mentre queste non non rispettano queste cose l'hanno perso il blocco della proliferazione e poi l'altra cosa per cui erano interessanti era il fatto appunto che ne puoi produrre una quantità infinita di queste cellule questa è un'altra cellula Hila in divisione ve l'ho fatta vedere perché è molto bella di nuovo qui abbiamo i cromosomi allineati secondo il fuso mitotico che poi si separa da origine alle due nuclei e poi alle cellule figlie le Hila sono state usate nel 1953 per coltivare il virus della poliovenite questo ha permesso successivamente a Solca di sviluppare il vaccino della polio sono state mandate nello spazio per valutare ovviamente per valutare gli effetti dell'assenza di gravità sono state usate ovviamente per sperimentare farmaci antitumorali questi sono i lavori prevalenti però le Hila adesso si usano anche per studiare meccanismi cellulari più dettagliati più specifici quali sono i segnali che danno il via al tumore qual è il pezzo del genoma interessato e via di seguito e perché allora si parla di vita immortale di Enrietta e anche questa è una cosa un po' come dire che fa slittare un po' i significati delle cose la vita consiste nella capacità di accrescimento e riproduzione di cui è dotata una determinata entità quindi queste cellule sono vite sono vite immortali queste cellule si possono riprodurre senza fine quindi sono immortali hanno un'identità perché le Hila portano l'eredità genetica di Enrietta non è che portano un'altra identità sono le cellule di Enrietta sono i suoi cromosomi con cioè uno dei tanti polimorfismi genetici umani quindi sono le perché si parla poi il discorso è slittato e si parla della vita immortale di Enrietta perché queste sono cellule vive sono cellule che durano quanto si vuole e sono di Enrietta la vita di una cellula in cultura è la vita come quella di un individuo si nutre si muove si sposta si differenzia si divide da origine cellule e figlie si ammala perché può essere infettata da virus batteri muffe funghi se si tratta di cellule normale la cultura va incontro a processi di invecchiamento e di morte quindi le tappe della vita sono riprodotte lì e io qui vi voglio far vedere un altro filmino questo è stato fatto con Leila nel mio laboratorio vedete queste cellule non solo si muovono ma si dividono voi vedete queste palline che quando si dividono si staccano perdono l'adesione al substrato poi si riattaccano di nuovo e formano un piccolo epitelio quindi queste più perché voi mi direte perché sono più iridescenti perché proprio si staccano dal piano della piazza quindi il microscopio riflettono la luce in maniera diversa di quelle adese e qui ce n'è un altro in cui vi faccio vedere sempre le Ila che formano un pavimentino vedete formano questi pavimentini c'è sempre qualcuna che si divide eccola qua e però poi dopo si organizzano in un pavimentino e quando entrano in contatto tra di loro smettono poi di dividersi e voi se guardate questo dopo un po' la piastra è piena ovviamente il film è molto accelerato perché i tempi non sono quelli che stiamo vedendo queste vedete come si dividono bene questa anche avete visto come si è divisa e qui la piastra si sta riempiendo praticamente di cellule ecco qua Flavia scusa una domanda sì una domanda ma può succedere può succedere può succedere che nel copiare il DNA possono avvenire degli errori delle mutazioni no però in genere voglio dire non avviene cioè in cellule in genere non avviene però è una delle fasi delicate quelle della replicazione perché devono copiare il DNA deve essere copiato uguale a quello precedente allora e qui vi volevo dire due parole sulla scellescenza delle cellule normali in cultura cioè l'invecchiamento l'invecchiamento nel 1961 in contraddizione con quanto si credeva allora Iflix e Morehead hanno scoperto che cellule umane derivate da tessuto embrionale possono dividersi solo un numero determinato di volte cioè loro hanno visto contando le divisioni che facevano che si arrivava a circa 70 divisioni la cosa molto interessante che hanno osservato successivamente è che se loro prendono una pelle di un individuo adulto per esempio prendono una vostra e la mettono in cultura si divide un numero di volte superiore che se la prendessero da me che sono un individuo più anziano che ha di fronte a sé un numero di divisioni minore quindi è come se ci fosse proprio un programma di vita all'interno della cellula un programma di vita che ti dice che a un certo punto invecchi e muori e questa loro l'hanno osservato con degli studi molto accurati fatti molto bene e in prevalenza loro non hanno usato le ILA qui hanno usato dei fibroblasti umani i fibroblasti umani normali sopravvivono abbastanza bene in cultura perché sono delle cellule poco diciamo non fanno delle funzioni altamente specializzate e quindi sono riusciti a fare a individuare tutti questi meccanismi di controllo delle divisioni cellulari che è molto molto interessante cosa abbiamo noi adesso un sacco di tipi cellulari possiamo avere le culture primarie cioè partire dal che si chiamano quelle derivate dal tessuto di origine oppure delle cellule stabilizzate che quindi ormai si riproducono da sole e quindi non hai più bisogno di partire dal tessuto d'origine oppure ci sono cellule immortali ma anche immortalizzate nel senso che adesso si possono inserire dei geni o dei virus oncogene all'interno delle cellule in modo che rimangano che diventino immortali senza perdere le loro capacità specifiche e quindi adesso si fanno tutti questi lavori che sono appunto le ingegnerie genetiche ma per questo io dico che la scoperta delle culture cellulari ha segnato una grande svolta nella biologia e tutto quello che noi vediamo adesso sono nient'altro che figli di questa tecnologia madre noi abbiamo cellule di tutti i tipi perché abbiamo cellule sia vegetali che animali che umane ci sono delle banche di cellule cellule che derivano da diversi tessuti e organi che sono in grado di differenziare in vita ci sono le cellule staminali che sono quelle che sono state individuate nei vari tessuti che hanno ancora il compito di riparare quel tessuto qualora qualora subisse un danno e quali sono allora i vantaggi di questi modelli allora innanzitutto noi abbiamo delle linee cellulare umane che rendono così possibili molti studi sulla nostra specie che altrimenti per motivi etici non si potrebbero effettuare questo è un fatto fondamentale è chiaro che la cellula è un modello riduzionista rispetto all'animale però ti consente di capire i meccanismi basali umani non i meccanismi basali animali che poi devi fare il raccordo con la specie umana queste cellule sono derivate come vi ho detto da vari tessuti o d'organi e mantengono le loro caratteristiche specifiche in vitro quindi noi possiamo studiare queste funzioni molto specializzate in cultura studarle su un animale è una cosa molto complicata perché ci sono una serie di elementi confondenti quindi uno può partire e dissezionare gli elementi fondamentali e poi piano piano arrivare a quello che avviene nell'organismo nel suo complesso l'altro vantaggio che si ha quando si fanno degli esperimenti con le culture cellulare è che noi riusciamo ad avere specialmente nel caso dello studio per esempio di effetti di sostanze o di altre cose avere un numero significativo di campioni perché se noi dobbiamo testare un farmaco per vedere se questo ha la possibilità di avere un effetto su uno su centomila noi dovremmo avere centomila topi o centomila cavie invece su questo noi abbiamo adesso dei pozzetti di 93 che sono dei vassoietti grandi come questo con dei 93 pozzetti uno può metterci dentro tutte le varie sostanze io l'ho visto alla Bayer ci sono dei robot e dei nastri su cui scorrono questi pozzetti ed è tutto automatizzato sia la somministrazione delle sostanze dei farmaci eccetera sia la valutazione dei risultati che viene rilevato in base a coloranti o a sostanze fosforescenti eccetera eccetera quindi è una cosa che ha anche permesso di superare alcuni ostacoli che si avevano con gli animali si possono studiare meccanismi e segnali a livello cellulare molecolare un numero statisticamente ve l'ho detto significativo si può fare e la tecnologia è ormai abbastanza facile gli studi sulle cellule sono relativamente meno costosi anche in termini di tempo di quelli sugli animali perché i risultati si possono avere anche in tempi molto brevi e infatti molti hanno insistito che possano costituire un'alternativa all'uso degli animali nella sperimentazione questo è diventato in parte vero nel senso che adesso per esempio tutta la sperimentazione dei cosmetici sugli animali è stata abolita con la direttiva dell'anno scorso quindi è un fatto ormai consolidato il modello è certamente un modello semplificato rispetto alla complessità dell'organismo perché mancano le regolazioni sistemiche e poi c'è un altro limite che sulle culture cellulari si possono effettuare prevalentemente studi a breve termine nel senso che quando uno quando io faccio un passaggio di una cultura a quella successiva la popolazione è già un'altra non è quella che io ho trattato perché si è nel frattempo replicata comunque offrono notevoli vantaggi per questo io dico che la cultura di cellule è stata la madre di quasi tutte le biotecnologie noi oggi ogni volta che vediamo cellule staminali tessuti fetali clonazione una fecondazione in vitro gli ibridi gli anticorpi monoclonali ogni volta diciamo una grande novità ma queste sono figlie sono tecnologie figlie di questa prima grande intuizione che si è avuta e questa prima grande modello sperimentale che adesso ormai è diffuso in tutta la biomedicina le biotecnologie tra l'altro volevo dirvi perché c'è spesso confusione su questo si pensa che le biotecnologie sia l'ingegneria genetica che è solo una delle biotecnologie le biotecnologie sono procedimenti mediante i quali materiali sintetici o naturali vengono trasformati in prodotti utili facendo uso di agenti biologici questa è la definizione di biotecnologie quali sono i slittamenti concettuali e semantici che si legano a questo modello sperimentale e questo che mi piace anche sottolineare che nessuna novità scientifica si impone senza strascinare con sé dei cambiamenti di ordine concettuale e semantico questo ha un impatto sulla cultura il linguaggio ma anche sulla rappresentazione di noi stessi gli aspetti simbolici con le metafore che li accompagnano vengono dislocati e nuove immagini parole e descrizioni si rendono necessarie per esempio io poi ci tornerò dopo con le culture cellulari si usa spesso un linguaggio come se si parlasse capita in laboratorio come se si parlasse le persone non so si arriva in laboratorio la mattina e diciamo andiamo a vedere come stanno le bambine stamattina e uno va a vedere come stanno le bambine allora dice ah bisogna darle da mangiare perché il mezzo e quindi e poi ai linguaggi bisogna stare anche molto attenti perché si accompagna neanche l'assegnazione di valori per questo io quando si discute in maniera molto generica di vita umana a proposito per esempio della fecondazione in vitro eccetera trovo che c'è tutta una serie di termini che vengono usati con molta genericità e bisognerebbe distinguere perché la vita umana è anche la vita di una cellula la vita delle Ila è una vita umana non è una definizione sbagliata e io sono stata indirizzata verso queste riflessioni questo libro molto bello che è più bello secondo me di quello di Arietta che si chiama Culturing Life purtroppo non l'hanno tradotto questa è un'antropologa questa che ha scritto questo libro e ha detto appunto ha sostenuto come anche il concetto di autonomia abbia abbia perquistato un altro significato quando noi parliamo di autonomia di una persona parliamo di autonomia di una cellula però adesso si può applicare alle cellule proprio perché si è avuta l'idea che le cellule possono vivere da sola in maniera autonoma e che abbia e che siano in grado di fare il loro mestiere in maniera staccata dall'organismo quindi è una parola che a questo punto è densa di ambiguità perché una cosa è parlare di autonomia di una persona è una cosa è parlare di autonomia di una cellula è un concetto rivoluzionario non solo per la scienza ma anche per la filosofia perché colloca appunto come vi dicevo l'idea di vita umana se riferita alla unità elementare nel nostro organismo in una dimensione puramente biologica mentre quando noi parliamo di vita umana riferendoci all'individuo la dimensione a cui facciamo riferimento non è quella puramente biologica ne deriva che per quel che riguarda la vita degli esseri umani bisogna ricorrere alle definizioni più complesse e concettualmente richiede una diversificazione di piani di elaborazione immortalità anche qui ha acquistato un altro proprio è entrata è diventato un termine tecnico cioè mentre in passato uno pensava all'immortalità come qualcosa che una potenzialità di una vita altrove che poteva essere il paradiso l'aldilà la reincarnazione in altri eccetera adesso noi sappiamo che c'è un'immortalità biologica anche qui si impone la necessità di ripensamento e di rielaborazione di questa idea che ha assunto anche una dimensione appunto scientifica adesso si concretizza per una popolazione di cellule ma un domani potrebbe essere possibile per noi stessi per esempio c'è in America chi ha già pensato di farsi congelare a meno 85 gradi centigradi in attesa di cure migliori oppure in attesa della scoperta della gene dell'immortalità che era poi stato identificato con questo famoso telomero che è una parte terminale dei cromosomi riproduzione massiva delle cellule anche questo cellule del nostro organismo possono riprodursi in quantità enormi ad essere usate in tutto il mondo e per sempre cioè questa idea che noi abbiamo disponibilità di cellule quello che si fa quando uno decide di congelare il cordone ombelicare per avere disponibilità di cellule per coltivare da coltivare nel caso il proprio figlio avesse delle malattie dei bisogni delle necessità sono un modello di studio potente per la scienza ma anche un prodotto di mercato queste cellule adesso queste banche ve le vendono ma le vendono non sì ci sono le regole di mercato però voglio dire sono banche che in realtà vi fanno pagare il costo del prodotto nel senso che loro le tengono congelate guardano che non siano infettate da virus da muffe o da quant'altro guardano controllano che il genotipo appunto non sia variato nel tempo e quindi quando ve le vendono vi vendono un prodotto come si dice doc e quindi uno può comprare una fialetta per 200 dollari poi se la mette in cultura e da quella fa nascere tutte le culture figlie che si congela e via di seguito e queste banche hanno una quantità di cellule mostruose la più importante è l'American tissue culture però c'è anche una inglese è ovvio che intorno a tutte queste cose queste problematiche si sollevino problemi etici scientifici culturali e che il nostro immaginario in qualche modo ne riesca modificato come anche dalle filmini che vi ho fatto vedere e vi dico proprio questo per dire che naturalmente anche gli scienziati hanno incominciato a sbizzaristi questo è uno degli autori dei più belli libri di culture cellulari che siano stati scritti negli ultimi anni però lui ha anche scritto un testo teatrale che si chiama The Tissue Culture Follies e questo questo testo teatrale sono le cellule che parlano e dicono ma insomma questi non ci vengono a cambiare il mezzo ma noi siamo qui che con questo mezzo tutto giallo pieno di pattume questi sono sicuramente andati a prendere il caffè basta che si spicci non ci vengono a cambiare il mezzo ecco il testo teatrale è su questa è su questa linea ma non basta ho scoperto anche che negli anni aspettate che devo trovare il suono però che negli anni nel 68 questo è uno dei Ringo Starr è stata fatta una canzone che si chiama The Very Cellular Song adesso devo vedere se riesco a farvi sentire la musica di questo dovrei aspettate che adesso devo tornare sul vediamo se lo suona no come faccio a farlo suonare vabbè insomma questo era era il finale dovrebbe suonare ma non suona quindi comunque lo potete sentire su internet eh no ma il mio computer l'ho provato ma non si vede che non è però lo potete sentire su internet perché se voi cercate The Very Cellular Song lo trovate e questo questo dei Rollistore racconta che lui ha letto la storia di Arriet sui bagni della università dei bagni per gli uomini dell'università di di Berkeley e allora è stato ispirato e ha deciso di scrivere questa canzone che si chiama The Very Cellular Song quindi vedete che che impatto che ha avuto questa questa storia anche al di fuori diciamo dei dei confini della scienza e questo era quello che vi volevo raccontare sì certo infatti dire a la domanda è questo perché mai una cosa congelata a 180 gradi o 190 quindi si immobilizza e noi siamo abituati a pensare che ciò che si chiude poi non riposta a ripartire perché riparte anche un individuo quindi una struttura molto complessa forse per lei è normale nella mia vita abituale allora c'è un aspetto tecnico che è quello di non rompere le strutture cellulari e quindi in genere queste vengono congelate o col glicerolo che è molto denso cioè al mezzo di cultura viene aggiunto il glicerolo per proteggere le strutture oppure il dimetilsulfossido che è anche un liquido molto denso viene aggiunto in piccole percentuali al mezzo di cultura questo protegge le strutture della cellula allora quello che succede è questo che qua bisogna la fase che richiede molta attenzione è quella del congelamento che deve essere graduale perché è uno shock per la cellula il congelamento quindi bisogna metterle prima in una scatoletta con un po' di ghiaccio poi si mette per una notte nel freezer a meno 80 e poi dopo si passa a meno 100 nell'azoto liquido invece lo scongelamento proprio per salvaguardare deve essere istantaneo quindi bisogna prendere la fiaretta dall'azoto liquido e si butta in un becker con l'acqua a 37 gradi e deve scongelarsi immediatamente perché se no rischia le strutture di rovinarsi eccetera e allora si mettono in cultura e certo si aspetta un po' una parte della popolazione viene persa chiaramente perché in qualche modo però ripartono 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 si immortalizzate erano quelle a cui si potevano aggiungere gli oncogeni ecco l'oncogene di solito porta una specie di messaggio che diciamo è proprio delle tipica musica degli anni dei 60 altri ecco ecco lì scusi no io pure sono biologa ho lavorato per 25 anni all'istituto superiore sanità però ho fatto altre cose ho fatto biochimica insomma sono interessata di altre cose non ho mai lavorato con le culture cellulari però insomma un pochino quindi mastico la materia quando lei ha detto oncogene mi sono un po' meravigliata incuriosita perché si parla sempre di oncogene come dei trigger per che possano portare appunto diciamo una cellula a diventare tumorale si parla sempre no di questi diciamo segnali di queste scoperte di questi oncogeni peculiari per alcuni tipi di cellule tumorali questa era la mia domanda allora ci sono allora il processo tumorale non è un processo semplice è un processo che significa la disconnessione diciamo di alcuni elementi allora uno è la perdita uno è certamente quella della della perdita del controllo della replicazione però ci sono altri che sono quelli invece che portano per esempio la cellula a regredire a uno stato molto primitivo a diventare immature praticamente allora si selezionano quei geni che sono quelli che lavorano appunto a livello della replicazione che fanno parte degli oncogeni ma che però non rendono la cellula come dire maligna non solo immortale perché la cellula che è maligna ha un'altra serie di caratteristica allora bisogna che avvengano una serie di eventi perché una cellula dopo essere diventata immortale diventi anche maligna invasiva eccetera eccetera perché si modifica la membrana quindi prendono alcuni hanno selezionato dei geni che fanno parte della storia dell'oncogenesi ma che sono quelli che però riguardano solo l'inibizione della crescita la regolazione della crescita abbiamo il problema della poptosi invece di questo diciamo cellule che li autosuicidano perché in qualche maniera ecco dico beh la poptosi è una storia molto interessante perché questa è una storia che avviene negli embrioni normalmente nel senso che le cellule si suicidano per esempio le membrane interpalmari quando poi sono destinate a scomparire appunto avviene la la poptosi e queste scompaiono e c'è questo comando però per esempio la poptosi avviene anche sembra nell'Alzheimer quindi mentre in una situazione ha una funzione positiva in un'altra situazione ha una posizione negativa rispetto ai tumori per esempio si sono studiate delle molecole che sono in grado di indurre la poptosi per vedere se appunto indirizzandole alle cellule tumorali con dei target specifici potessero indurre queste cellule tumorali a suicidarsi però è una strada molto difficile questa qua questa qua è molto difficile sì io non sono una biolo quindi faccio una domanda molto ingenua ma che è una cosa che mi incuriosisce molto è affascinantissima questa cosa anzi lo ringrazio perché ho trovato molto bella la relazione tutta questa questione appunto di queste cellule che vivono per conto proprio però nella relazione ovviamente c'erano in vari momenti dei rimandi al fatto che poi diciamo di norma queste cellule vivono in organismi allora mi chiedevo se questa linea di ricerca abbia anche senza altro forse l'ha fatto non so in che forma eccetera contribuito a capire meglio che relazione c'è da queste caratteristiche diciamo autonome delle cellule e invece il loro modo di essere in relazione a sistemi più ampi quindi mi chiedevo quale branca diciamo della biologia studia questo che cosa ne è venuto fuori perché non so come dire come a me proprio da ingenua al solito mi dà l'idea di aggregazioni successive avvenute nella formazione degli organismi di cui questa cosa sia una traccia però mi chiedo appunto se questa differenziazione di metodo non abbia anche illuminato qualcosa sulle relazioni poi sistemiche invece allora quello che sta avvenendo è una cosa cioè di nuovo siamo in un altro in un cambiamento enorme nel senso che noi abbiamo per esempio delle conoscenze sistemiche sugli individui che ci derivano sia dagli studi clinici sia da incidenti nei casi di avvelenamenti o cose di questo genere abbiamo studi sugli animali che in qualche modo comunque rispecchiano anche se non tutto è estrapolabile così direttamente però i meccanismi di regolazione eccetera eccetera tutto questo poi nelle cellule su cui sia animali che umane su cui si possono studiare dei meccanismi specifici tutto questo sta andando a finire nel grande calderone della system biology della biologia dei sistemi che è una cosa affascinantissima perché sono dei matematici che costruiscono dei modelli sulla base delle informazioni disponibili che adesso appunto col fatto che c'è l'informatica si hanno un'infinità di database a cui si possono attingere i dati che servono e cercano di mettere insieme questi dati per acquisire delle configurazioni plausibili di quello che può avvenire nell'organismo e la cosa è molto interessante che non solo questi riescono a fare molte di queste correlazioni e a fare dei modelli estremamente plausibili ma riescono anche a tornare indietro dal ricercatore e dire guarda che c'è questa area che non è coperta quindi tu mi mancano dati su questo punto quindi tu sarebbe bene che facessi questo tipo di esperimenti così vediamo se quello che viene fuori si può si infila e la cosa diventa coerente è successo per esempio che hanno dei genetisti che usavano un organismo elementare che aveva tipo il nematode ma un'altra cosa e abbinavano i geni alle funzioni hanno fatto questa elaborazione questo modello del sistema e hanno detto guardate che secondo noi manca un gene quindi lo dovete trovare perché così non ci torna quelli sono ritornati in laboratorio hanno rifatto tutti gli studi eccetera eccetera e hanno tirato fuori il gene che mancava quindi le funzioni che loro avevano e questo si fa con dei modelli matematici molto complicati tra l'altro siccome voi sapete che non è che ci sono leggi come quelle nella fisica insomma i modelli sono dei modelli in cui vengono dissezionate per esempio delle curve in steady state in piccolissimi stati non variabili in modo da poter intervenire in vari livelli e questo è un fatto per esempio interessantissimo perché io per esempio posso dirmi costruisco un bel modello e poi voglio capire se variando un certo parametro succede qualcosa lo faccio matematicamente vario il parametro e infatti questa della biologia dei sistemi è una cosa che sta esplodendo ma questa è l'altra rivoluzione importantissima che è quella dell'informatica cioè la possibilità di avere tutti questi dati di poterli pescare in maniera appropriata perché anche lì non è facile questi database sono enormi quindi bisogna però incominciano a funzionare veramente incominciano a funzionare sì 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 no ma ormai c'è no ci sono nell'università nella allora sono questi questi gruppi sono fatti guardate da biologi informatici esperti per esempio di chemioinformatica cioè le molecole secondo come sono strutturate con che cosa interagiscono eccetera quindi si mettono sono diversi aree della informatica con la biologia e tirano fuori delle certo grazie anche ai dati preesistenti ovviamente ma tirano fuori dei modelli plausibili e interessanti che poi uno appunto può convalidare ritornando all'esperimento e vedere se effettivamente succede quello che uno aveva immaginato che succedesse qui a Roma c'è alla sapienza non mi ricordo come come si chiama però per esempio la commissione europea ha finanziato un sacco di progetti di biologia dei sistemi Roma adesso adesso comincio a perdere i nomi i miei neuroni però c'è qui alla sapienza sì 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 no è molto è molto interessante io che per esempio sono una biologa che non cioè ho sempre pensato appunto che la matematica e tutti quelli che si edudevano che anche per la biologia si potessero fare leggi come per la matematica eccetera eccetera mi sto convincendo che le leggi non si possono fare perché è tale la variabilità dei sistemi che però che ci sono degli approcci che consentono di fare dei modelli che sono attendibili questo è una cosa formidabile formidabile no no questa è una formidabile io ho fatto parte del consiglio scientifico di un di un di un network di eccellenza europeo che si chiamava Biosim ed è lì che ho imparato queste cose perché appunto loro avevano le malattie cardiache i tumori del sangue come 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 database e e il diabete e poi ci avevano tutta una serie di dati sperimentali di dati a livello delle cellule dei genomi eccetera eccetera su queste cose e hanno costruito delle dei modelli estremamente interessanti e affidabili una domanda mi incuriosiva la discendenza umana di Enrietta cioè quella in vivo non quella in vitro loro sono portatori di questa mutazione oppure la mutazione è avvenuta i miei discendenti di Enrietta ha detto che ha avuto cinque figli sono portatori di questa mutazione oppure è avvenuta soltanto non pare non pare non pare io adesso non so quanti ne sono vivi però so che hanno fatto una commemorazione in cui c'era presente la famiglia e c'erano le sue figlie più grandi non pare una mutazione che probabilmente è avvenuta nella cervice un terino sì anche perché pare che sia molto rara questa mutazione era particolarmente cattiva sì sì ebbè ma le patologie sono correlate a degli individui il diabete è un meccanismo molto molto complesso e loro hanno i dati su questi individui che sono affetti dal diabete i dati sui farmaci che assumono quello che avviene a livello cellulare molecolare eccetera eccetera e riescono a costruire dei quadri che forniscono anche delle informazioni tipo le possibilità di intervento più efficaci per esempio adesso mi viene in mente proprio una cosa che mi ha colpito moltissimo è che nella somministrazione dei farmaci antitumulani proprio dal modello è venuto fuori che se uno tiene conto del ciclo cicardiano della persona ci sono dei momenti precisi in cui è il momento migliore per somministrare il farmaco e per esempio veniva che era alle 4 del mattino ora invece siccome in ospedale è scomodo fare questa veniva dato alle 7 e loro hanno dimostrato l'efficacia di questa indicazione sia appunto tornando dagli sperimentatori e dicendo allora su topi che hanno il tumore eccetera calcoliamo il ciclo cicardiano guardiamo le date gli orari di somministrazione e vediamo se effettivamente è così poi hanno fatto sulle cellule in cultura tumorale e hanno visto che ritornava sempre questa storia di una finestra dove il farmaco è più efficace probabilmente perché l'organismo magari è in un momento in cui ha meno difese quindi il farmaco riesce a colpire quindi per esempio erano riusciti a individuare questo questo erano dei ricercatori di GIF Sirivet che è un centro oncologico molto famoso cioè riescono a fare delle cose quindi io mi sono ricreduta cioè non tanto sul fatto che si facciano le equazioni sul vivente ma sul fatto che si possa affrontare il problema da un punto di vista matematico adesso ne sono più che convinto certo con tutti i dati che si hanno perché non è che non sono modelli astratti sono modelli basati su misurazioni ecco si c'è un altro intervento l'ultimo intervento sono due brevissime domande proprio da ignorante quindi c'è una qual è la differenza spesso si studia ad esempio l'incidenza nei tumori nella cervice uterina derivanti da papillomavirus quindi rispetto a un'infezione da papillomavirus di determinati ceppi che poi portano alla tumoralità rispetto invece alle ila qual è la differenza maggiore per cui invece nelle ila c'è questa mutazione su questo gene che però non ho capito qual era il gene no non so esattamente so che adesso lo sanno forse nel libro che avevo con me c'è questa cosa no non c'è eh culture in life sì adesso non so che mutazione era però guarda non è che tutti i tumori hanno la stessa i tumori di un certo organo hanno la stessa mutazione possono essere mutazioni diverse quindi non è comunque la stessa no no anche se adesso c'è questa tendenza di associare al papilloma questo tumore quindi si sta facendo la vaccinazione negli Stati Uniti però eh eh lo so lo so non so guarda non lo so perché tanti dicono che persino il pap test non è efficace perché in genere si si diagnosticano quelli che comunque si sarebbero diagnosticati in assenza di pap test quindi cioè sono molto controversa queste cose epidemiologiche perché è anche come si costruisce il campione come si viene analizzato eccetera però bisogna tenere presente questo fatto che non non tutti cioè è un tumore al fegato non è che c'ha quella mutazione possono avvenire varie poi è una cascata di eventi che porta al tumore quindi sono più geni implicati non è non basta che la cellula sia trasformata da tutta parte se voi lo sapete cioè una cisti si forma perché le cellule si riproducono però non è tumorale nel senso che comunque conserva tutta una serie le cellule conservano una serie di proprietà per cui non vanno a giro per il corpo capito quindi se è una serie di eventi quella che porta al tumore è un po' a cascata diciamo per cui alcuni devono avvenire in sequenza perché poi avvenga veramente l'effetto che è temuto insomma Bene grazie Flavia e vi ringraziamo e vi ricordiamo che gli eventi di Forma Scienza sono trasmessi sul canale Youtube in streaming di Forma Scienza grazie e buona sera grazie 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 grazie